A questa rinascita, a questa riscoperta della tradizione e degli strumenti della musica occidana è stato il nostro maestro, il grande Sergio Berardo, a cui vogliamo dedicare il nostro pensiero con un brano di sua composizione. Questa è una chapelle oise che ha scritto Sergio, si trova in uno dei primi dischi di Ludolphin, Viva Gian Ligretto e il brano si titola Attesa, chapelle oise. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.